uscito fresco fresco di stampa davvero insomma siamo puntualissimi questa volta nella presentazione il numero di febbraio dell'eco delle valli valdesi il mensile free press legato al progetto riforma si fa in quattro e quindi saluto e do il benvenuto a samuel revel che viene a raccontarcelo ciao samuele buongiorno ciao a tutti a tutte benvenuti bentornate chi ci ascolta insomma gli ascoltatori più fedeli 2 febbraio insomma più veloci di così non si può veramente siamo stati puntualissimi sì assolutamente non abbiamo perso tempo perché appunto il mensile in realtà porta la data proprio di oggi perché riforma l'eco delle valli viaggia sempre con il primo venerdì di ogni mese però in realtà il giornale già in distribuzione da martedì pomeriggio nel in tutto il pinerolese e quindi questo secondo numero del 2024 che chi sta guardando la tv oppure ci sta seguendo in diretta streaming vede anche insomma passare in sovraimpressione ve lo facciamo un po' scorrere mentre chiacchieriamo con samuele dedicato ad un comune un comune della bassa valpellice si può ancora inserire nella bassa valpellice inizio del pinerolese storicamente bibiana come bricherazio erano considerati sono considerati valpellice quando c'era la comunità montana valpellice erano all'interno erano all'interno quindi possiamo penso non si offendano i bibianesi se li consideriamo come come valpellice anche se in realtà è un territorio dall'altra parte del pellice che confina molto con quella che è la provincia di cuneo quindi è veramente sul sul confine diciamo il dossier di questo mese del mese di gennaio appunto dedicato al comune di bibiana un comune appunto come dice il titolo stesso un comune crocevia sì noi appunto per inquadrare un po la questione ogni quattro mesi dedichiamo un il nostro numero a un comune questa volta appunto tocca a tocca viviana che è un comune noi abbiamo scritto crocevia fra agricoltura e storia perché così intervistando il sindaco ascoltando un po di diciamo di persone che che vivono lavorano su questo in questo comune abbiamo ci è sembrato che questi fossero i due elementi di spicco di questo di questo territorio qua e quindi l'agricoltura perché comunque è una zona viviana un territorio particolare in quanto c'è la collina ma c'è anche proprio una pianura pianissima verso cavour quindi con grandi estensioni di frutteti i kiwi in particolare è un frutto che caratterizza viviana c'è la famosa sagra del kiwi e poi c'è la collina con con altre altre coltivazioni ma in particolare c'è una scuola una scuola di formazione una fondazione anzi che che ha anche al suo interno una scuola legata al mondo dell'agricoltura che la malvarnardi esatto la scuola malvarnardi che forse qualcuno ha già anche avuto modo di conoscere di frequentare perché poi è molto aperta al pubblico anche dal punto di vista di corsi di di formazione oppure di eh approvvigionamento insomma di materiali che si utilizzano nella nel comparto agricolo si diciamo che se uno vuole piantarsi un melo può andare alla malva e comprare magari le antiche varietà hanno hanno qualcos'è anche alle alle alla biodiversità che rischia anche poi di di perdersi si sono quasi 400 varietà di mele 200 un centinaio di pere vigne eccetera quindi un archivio anche si un archivio esatto una biblioteca come vogliamo chiamarla oltre a questo fanno come dicevi tu dei corsi sia quelli per gli agricoltori gli aggiornamenti quelli sui sull'utilizzo dei farmaci in agricoltura che è un argomento molto delicato quindi loro ti spiegano e fanno questi questi patentini oppure anche dei corsi molto facili aperti a tutti sulle potature innesti queste cose qua esatto quindi questo sicuramente caratterizza il comune di bibiana la scuola malva arnaldi eh così come appunto citavi anche tu la la coltivazione di chi vuoi poi ci sono alcune chicche alcune curiosità che sono emerse sul comune di bibiana che io non conoscevo assolutamente anche noi cioè come come le due redazioni non le conoscevano abbiamo così bello è anche quello riuscire a scoprire novità andare a cercare informarsi scoprire e appunto la parte storica ci sono tre aspetti interessanti secondo me il primo più piccolino è quello del cimitero che io non sapevo ad esempio l'ho scoperto intervistando il sindaco che a bibiana c'è c'è il cimitero classico comunale e c'è una porta sulla destra che immette in un campo valdese piccolino una una piccola stanza diciamo recintata da mura quindi proprio un un cimitero a parte che era riservato alla popolazione valdese che a bibiana comunque è ancora oggi presente poi c'è l'aspetto della meridiana la meridiana è una meridiana conosciuta dagli esperti del settore in tutto il mondo ed è molto ricca molto particolare e racconta oltre a segnare il tempo che poi c'è un po il ruolo principale ricorda anche tutti i bibianesi che a quelli che sono emigrati da un lato della meridiana e dall'altro quelli che hanno combattuto soprattutto nelle varie guerre dell'ottocento e anche prima in giro per per il mondo con i nomi dei vari dei vari luoghi quindi molto molto particolare quanto può emergere da un'immagine appunto quanto tanto spaccato di storia la vedete si può si vede benissimo e sulla piazza principale del paese la trovate sull'angolo di una casa la vedete non è altissima è abbastanza a primo piano se non sbaglio e niente l'altro aspetto interessante è quello di superga e c'è questa leggenda nel senso che non è una leggenda quanto pare asseverata dai fatti che appunto la la basilica sia nata come un voto quando torino era assediata e il duca era scappato sull'altù su a bibiana e poi passeggiando era arrivato san bernardo da lì vedeva questa collina aveva fatto questo voto di appunto di edificare questa questa importante struttura insomma se anche voi non sapevate queste curiosità queste altre curiosità non abbiamo detto tutto possiamo svelare tutto dedicata a bibiana andatele a leggere appunto sul mensile numero 2 del 2024 il numero di febbraio dell'eco delle valli valdesi c'è la consueta ovviamente infografica che racconta i dati diciamo anagrafici la popolazione le percentuali di impegno di attività territoriali e quindi insomma il focus è dedicato a bibiana e poi non si poteva non parlare di 17 febbraio perché insomma ci avviciniamo a questa data importante ormai ci siamo è una pagina illustrata possiamo dire che chi chi ci sta seguendo anche su video la può vedere che è molto bella che spiega che cos'è come funziona da cosa è costituito il costume valdese che indossano le donne nei momenti ormai una volta era un costume appunto da tutti i giorni non così ricco però il costume delle donne era questo oggi viene usato appunto 17 febbraio piuttosto che natale o le altre festività importanti sì è un costume che ha acquisito un'identità particolare per la chiesa valdese e quindi ha tutta una serie di piccole annotazioni piccole connotazioni che poi insomma sono sono curiosi anche qua insomma ne abbiamo scoperte delle belle grazie anche appunto a leonora camusso che ci ha aiutato a curare questa pagina di infografica sì esatto appunto anche piccole regole su come si devono indossare cosa si deve indossare perché c'è un c'è un codice da rispettare sì c'è un codice che però guarda alla fine ho scoperto concede molta libertà quindi è insito nel senso del costume quindi questa è una cosa molto bella quindi proseguendo invece poi con il numero di febbraio troviamo anche delle notizie legate al territorio parliamo di trasporti perché di nuovo è tornato purtroppo di moda soprattutto la tratta Pinerolo Torino con gravi problemi grandissimi disservizi sì ritardi in sostanza cancellazione di treni un qualche tempo qualche settimana fa due consiglieri regionali hanno fatto questo viaggio sul treno della speranza come potremmo quasi definirlo è andato bene quel giorno insomma perché lo sapeva Trenitalia lo sapeva quindi è vero nel senso che c'era personale in più era pulito mentre sappiamo benissimo che purtroppo la quotidianità non è sempre così chi viaggia lo sa ecco non ci inventiamo nulla non è per fare una polemica sterile ma purtroppo è così quindi abbiamo sentito l'assessore regionale ai trasporti e il comitato treno vivo anche sulla parte proprio più locale fra Torre Pellice e Pinerolo su cui ormai sono più di dieci anni che tutto è fermo e non ci sono al momento novità purtroppo e concludiamo insomma questa carrellata di notizie e di piccoli input rispetto al numero di febbraio dell'eco delle valli valdesi con la rubrica dedicata alle storie di lavoratori in questo caso si parla del mestiere del panettiere un mestiere durissimo che però insomma ci consente di avere necessario ma davvero durissimo ne parla in questa rubrica curata da da Piervaldo Rostan e poi cos'altro vogliamo citare Samuele? ci sono le nostre tra virgolette solite rubriche c'è un po' di sport ci sono delle recensioni di libri c'è una bella notizia del Valchisone di Hockey Prato che ha vinto per la seconda volta il campionato italiano indoor quindi insomma un livello molto molto alto per la squadra che è composta praticamente da tutti i giocatori cresciuti nel vivaio di Villa Perosa che è una realtà veramente molto molto interessante la cultura la musica dicevamo ovviamente poi gli appuntamenti e la rubrica dedicata al meteo ahimè il meteo fa di nuovo siamo noiosi nel meteo ripetiamo le stesse cose tra virgolette però fa sempre più caldo piove nevica sempre meno i dati le tabelle parlano da solo da sole nessuno più riesce a negare a meno qualcuno c'è ancora l'altro giorno anche c'era il ministro dell'ambiente a Pinerolo in Acea anche lui ha detto è una cosa sotto gli occhi di tutti questo cambiamento non si può non non ammettere nonostante qualcuno nel suo governo continui invece a dire il contrario ma insomma i dati parlano molto chiaro i dati sono questi e meteo pinerolo.it è sempre molto puntuale nel riportare appunto e precisamente ecco le statistiche proprio dei cambiamenti e delle anomalie che sono state segnalate bene quindi caro Samuele non ci resta che darci l'appuntamento a marzo assolutamente sì non svegliamo ancora di cosa parleremo ci stiamo lavorando in questi giorni un argomento molto di attualità molto delicato anche se posso aggiungere un'anticipazione c'è su questo mensile possiamo dire quello cercate bene andate a sfogliare bene le pagine e troverete l'anticipazione esatto vedremo se andrà in porto ciò che stiamo preparando in questi giorni ricordiamo anche che il mensile ecco delle valli valdesi lo trovate pubblicato gratuitamente scaricabile dal sito riforma.it oppure in versione cartacea quella che ha Samuele sottomano adesso distribuita gratuitamente ovunque nel Pinerolese abbiamo solo un piccolo problema sul nostro sito di riforma che è un sito nuovo al momento non c'è l'archivio nel senso si può consultare soltanto il numero in questo caso il numero di febbraio ma a breve verranno ricariche ci sono bisogna soltanto apportare qualche modifica tecnica per avere tutti i numeri a disposizione a marzo quindi con la presentazione del prossimo numero buon lavoro alle redazioni insomma riforma a tutti noi per la costruzione del numero di marzo grazie Samuele per essere stato con noi grazie a te e buona giornata a tutti e tutte